eccoci tornati online come abbiamo preannunciato con un ospite l'ospite diciamo visto che siamo all'interno della biennale della tecnologia e siamo con con carlos de martin che è uno dei due curatori insieme a luca deviasi quindi innanzitutto grazie per essere per essere qui nostro ospite grazie un piacere essere con voi diciamo che forse l'unico momento in cui è ospite all'interno della biennale della tecnologia in cui invece fa da 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 persona che anzi invita gli ospiti le volevo fare qualche domanda diciamo a proposito di questa di questa di questa biennale è la prima volta che la biennale della tecnologia che prima si chiamava festival della tecnologia è in presenza quindi un po di emozione in questo senso e com'è nata questa idea allora sì sicuramente emozione perché l'esperienza del 2019 che era nata lo ricordo come per i 160 anni del Politecnico ed era nata con tutta la prospettiva di essere una specie di grande festa unica e è un ricordo molto forte in tutti e quindi la pandemia cioè nel 2020 che ci ha obbligato a farlo interamente online ha lasciato a tutti come per mille altre cose un senso così di malinconia di nostalgia quindi tornare in presenza è sicuramente emozionante e tornare in presenza con forse di un'offerta ancora più ricca ancora più matura di quanto non fosse inevitabilmente il 2019 che era un po numero zero come dire un un tentativo e anche un tentativo con una componente di rischio perché fare una grande manifestazione culturale su tecnologia e società non aveva mai fatto nessuno e quindi avevamo la ragionevole speranza che potesse incontrare il favore del pubblico degli studenti e del pubblico in generale ma non eravamo sicuri quindi adesso invece con l'esperienza del 2019 con l'esperienza completamente diversa online ma di nuovo con dei numeri importanti con molte persone che ci hanno seguito dal vivo che poi ci ha seguito la registrazione successivamente abbiamo approcciato questa terza edizione con un pochino più di tranquillità se è possibile avere tranquillità quando si fanno questo genere di cose così ampie e così complesse ma perché è nata così perché il Politecnico di Torino appunto la mia persona il lettore Luca Lebiase e molti altri avevano questo desiderio di provare a parlare di tecnologia in una maniera che non fosse soltanto strettamente tecnica ma che invitasse tutti gli altri punti di vista incluse le arti per aiutarci a comprendere che cos'è veramente la tecnologia quindi abbiamo fin dalla prima edizione invitato filosofi antropologi sociologi letterati musicisti e così via e questo impianto è stato completamente confermato nella seconda edizione poi adesso anche nella terza e questo questa diciamo questa biennale si intitola principi con l'ambivalenza di significato che ha questa parola e com'è che è si è andata a devolvere quindi quali sono state poi le declinazioni che ne avete trovato nei vari eventi allora la scelta a monte è stata già nella prima edizione di biennale nel 2020 non di avere un tema ma di avere un titolo e qual è la differenza il tema chiaramente vuol dire si parla di sostenibilità e tutti gli incontri quasi tutti gli incontri hanno a che fare con quello specifico tema invece il titolo ci dà più libertà perché non c'è un vincolo tematico ma è un una chiave per pensare ai vari temi quindi nel 2020 era mutazioni e con tutta una serie anche in quel caso di vari di polissemia di vari significati stavolta i principi perché principi dopo averci pensato a lungo con con luca e con tanti altri effettivamente è una parola sorprendentemente ricca di significati perché sono i principi fondanti di una dottrina insomma i principi attivi della molecola sono i principi nel senso di inizi quindi è una parola che si presta particolarmente a incoraggiare i nostri relatori a dire ma un argomento di cui voglio parlare io dove trovo un aggancio con questa parola così proteiforme e quindi è il motivo per cui l'abbiamo scelto anche perché viviamo in un periodo di oggettiva di se qualcuno che parla di policrisi che vuol dire alla fine tante crisi contemporanee climatiche guerre diciamo che la mia generazione è da quando praticamente si è affacciata all'età adulta che sente parlare solo di crisi tenete conto che non conosciamo altra situazione tenete conto che la mia generazione è praticamente lo stesso nel senso che le crisi ci sono sempre perché voi siete piccoli quando ero piccolo io la crisi era che c'era un altro shock energetico che era la crisi petrolifera e c'erano le domeniche a piedi non si poteva usare la macchina oppure altre alterne e tutta una serie di cose che sono tornando insomma la memoria perché hanno delle assonanze con quello che sta capitando adesso e si parlava quando ero piccolo io di guerra nucleare di missili nucleari di schieramenti nell'est Europa e oggi anche questi sono argomenti che che ritornano in qualche modo un forte senso di deja vu per chi ha la mia età però c'è un aggancio con biennale nel senso che a biennale parliamo di questi temi che sono così di attualità e cose importanti che parliamo di energia con con tra una serie di tre incontri praticamente la miniserie di tre incontri uno per giorno parliamo anche proprio di guerre di armi ci sono due incontri chiamati il lato oscuro della tecnologia dedicato alle armi a cura di pepino ortoleva quindi non siamo stati timidi e non abbiamo fatto finte di niente rispetto a quello che sta capitando nel mondo e poi c'è un incontro a cui tengo molto perché l'incontro lato opposto tecnologia è pace quindi il ruolo dei tecnici il ruolo degli ingegneri il ruolo della tecnologia in collaborazione a cura col centro sereno regis che è un noto centro turinese che si occupa di pace da decenni benissimo allora noi intanto ci ascoltiamo un brano nel mentre siamo tornati qui online con il nostro ospite con carlo de martin il curatore scientifico della biennale della tecnologia con cui stavamo un po parlando di questa di questa edizione che ne abbiamo sottolineato più volte anche con il correttore che abbiamo avuto ospite forse la cosa più interessante di questo momento è anche riscoprire anche la limitatezza del sapere ingegneristico alcune volte forse al politecnico non è facile ricordarselo in questo in questo senso ma il momento in cui ci apriamo in questo in questo modo agli altri saperi per essere contaminati su un tema poi a noi molto vicino che quello della della tecnologia ci fa rendere conto sia che probabilmente anche il lungo percorso di studi che ne facciamo pesante o berante come può essere non è sufficiente la curiosità anche nei confronti negli altri campi non è mai fine a se stessa ma serve anche per capire meglio quello che poi noi studiamo sì assolutamente quello che mi sta a cuore e e che si sviluppi una forma di umiltà bilaterale nel senso noi ingegneri dobbiamo dismettere i panni di come dire di sufficienza di arroganza che alcuni hanno pensando che soltanto le cose che sono certe sono soltanto i numeri e le equazioni o gli algoritmi e che quella è l'unica forma di sapere serio e che tutto il resto è fuffa chiacchiere e cose del genere viceversa parlando ipoteticamente a colleghi come dire del campo umanistico e sociale far capire a loro che la tecnologia non è soltanto parlare di cose utili di strumenti quindi meri strumenti che i vili meccanici i vili ingegneri costruiscono ma che tecnologia è una componente fondamentale dell'umanità e che deve essere studiata anche nelle loro discipline quindi la storia della tecnologia è una storia importantissima molto poco coltivata in italia per esempio la sociologia della tecnica la filosofia della tecnica e così via il diritto il diritto certamente ma il diritto imperialista si occupa di tutto perché ne hanno un'utilità pratica una cosa che esiste devi studiarla perché può essere oggetto di una causa legale quindi da questo punto la psicologia e quindi da una parte non essere arroganti noi nei confronti degli altri tipi di saperi gli altri tipi di saperi prendere sul serio il tema della tecnica studiarlo e aiutarci a comprenderlo complessivamente meglio anche perché le sfide che diciamo di fronte al quale siamo stati messi in questi decenni non permettono diciamo soluzione alternativa che un sapere in integrato come spesso viene viene detto questa biennale è iniziata ormai la raccontiamo da da quasi due due giorni ieri c'è stata l'inaugurazione poi oggi è iniziata in modo veramente energico con tutte le le iniziative com'è andata questa inaugurazione anche un po di emozione immagino sì sempre inaugurazione volutamente è un momento in parte cerimoniale in parte festa attrae molta attenzione ce ne siamo accorti anche ieri e inaugurazione è andata bene perché avevamo un ospite di eccezione che era Nassim Nicola Staleb questo pensatore molto originale direi unico non mi viene in mente nessun altro paragonabile a lui e che appunto ha fatto una lezione molto interessante una lunga conversazione poi dopo con il direttore della stampa e quindi quello è stato un po come dire la cerimonia di apertura e poi siamo molto molto contenti di questa collaborazione che è nata parecchi mesi fa con Marco Paolini con Termo Pievani tra l'altro Termo Pievani già coinvolto nei corsi grandi sfide che abbiamo inaugurato lo scorso l'anno accademico e Marco Paolini che ha accettato di prendere una cosa preesistente che il programma della fabbrica del mondo e di fare una cosa specificamente apposta per noi che non è proprio una cosa che capita così scontato e effettivamente di avere 900 posti nella sala Fucine 1GR un po' di nervosismo dicendo ma alla fine poi verranno le persone era tutto gratuito effettivamente è stato un grandissimo successo da che è tutto pieno rimasta molta gente fuori mi dispiace per loro ma effettivamente io sono contento che sia andata così assolutamente tra l'altro l'inaugurazione diciamo che un po' lo spirito critico che è anche una parte fondamentale di questa biennale è un po' immerso da subito un po' dal dal pubblico durante la biennale sembra sì dal pubblico insomma non so se definire esattamente pubblico nel senso che sono entrati hanno parlato se ne sono andati quindi un pubblico un po' particolare che hanno sollevato un tema che è trattato ampiamente nella biennale perché parliamo in maniera credo critica di quei temi di tanti altri temi perché il biennale penso che chiunque guarda il programma se ne renda conto è effettivamente una palestra di pensiero critico se devo dire la verità a me quelle modalità quel tipo di modalità trovo quindi non la cosa in sé di dire quelle cose ma in quel modo lo trovo un po' violento e quindi francamente avrei preferito una modalità più insomma più dialogica che non veniamo pretendiamo parliamo e ce ne andiamo assolutamente vero però alcune volte alcune volte anche i momenti di impatto aiutano anche no a porsi a porsi delle domande anche per migliorarsi nel futuro lo spero temo che sia molto una cosa mediatica quindi diventi un gioco di segnali che non qualcosa di sostanziale però spero che tu abbia ragione assolutamente grazie mille per essere stato con con noi abbiamo saputo che ci verrà a trovare anche i prossimi giorni durante questa biennale così avremo modo di parlare anche dei prossimi eventi che ci saranno oggi pomeriggio e domani mattina e poi nei prossimi giorni che sono tantissimi quindi avremo di sicuro di cui parlare grazie molto e a presto allora grazie a tutti